Maria Pia Casilio, la triste storia di una diva mancata La commedia italiana, nell'immediato dopoguerra, ha sfornato molti talenti, dotati di grande naturalezza e spontaneità nelle loro interpretazioni, al punto da rendere le pellicole le più oneste e verosimili possibili. Tuttavia, tanti di questi talenti non ha ottenuto il successo che meritava, per vari motivi. Come Maria Pia Casilio, la cui storia riportiamo di seguito. Le origini e gli esordi Maria Pia Casilio nacque a Castelnuovo, frazione di San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila, il 5 maggio 1935. Ma si trasferì durante l'infanzia a Paganica, altra frazione del capoluogo abruzzese. Decisa a intraprendere la carriera cinematografica, si trasferì giovanissima a Roma, dove nel dopoguerra le produzioni erano praticamente quotidiane. Nella capitale visse per il resto della sua vita. Si fece subito apprezzare, soprattutto per le sue caratterizzazioni di ragazza sempliciotta e ingenua di provincia dal viso grazioso, i modi spicci e la voce nasale. E così debuttò a soli 17 anni nella pellicola struggente del grande Vittorio de Sica, Umberto Cinquecentesimo, 1952, dove interpretava una giovane servetta della pensione in cui vive l'anziano protagonista squattrinato. La sua carriera prese subito il volo. Interpretò così una serie di celebri commedie, come Pane, amore e fantasia, 1953, di Luigi Comencini, Il medico dei pazzi, 1954, di Mario Mattoli, insieme a Totò, e Un americano a Roma, 1954, di Steno, nel ruolo della fidanzata di Alberto Sordi. Non manca anche un'esperienza in Francia, nel film Teresa Raken, 1953. Nel 1955 prese parte alla commedia musicale La padrona di Raggio di Luna di Garinei e Giovannini. Vittorio de Sica la volle ancora nei film Stazione Termini, 1953, con Montgomery Clift e Jennifer Jones. Nel giudizio universale, 1961, e lo chiameremo Andrea, 1972. Si dedicò saltuariamente anche al doppiaggio. Sue sono le voci di Marina Vladi in Giorni d'Amore e di Stefania Sandrelli in Il federale. Ebbe solo un ruolo di comprimaria. Nonostante una carriera caratterizzata da un gran numero di film concentrati in un solo ventennio, ben 26, la Casilio non riuscì mai a scrollarsi di dosso il ruolo di comprimaria. Probabilmente anche oscurata dalle tante dive dell'epoca, in particolare Gina Lollobrigida, che le somigliava anche per l'accento. E così nei film il suo talento veniva mortificato in ruoli marginali. A partire dagli anni Ottanta diradò di molto le sue apparizioni, complice forse anche la nascita della figlia Francesca nel 1973, che ebbe con il doppiatore Giuseppe Rinaldi, alla quale volle maggiormente dedicarsi. E così le pellicole furono di fatti solo quattro, ultima un cameo in anni Cinquanta, regia di Carlo Vanzina del 1998. Morì a Roma il 10 aprile 2012, a 76 anni.